Stiamo monitorando quella che è la situazione in merito a delle punte centrali, sicuramente Flesch è un giocatore che ha dimostrato, soprattutto l'anno scorso, di essere un giocatore interessante e vediamo un po' come sarà il mercato. Con il direttore di Somma non ho ancora parlato, conto comunque di fare una chiacchierata così come si fa tra colleghi per capire un po' le situazioni, però Fletta non ce n'è anche perché in questo momento bisogna capire la situazione dei contagi, credo che la priorità per le varie società sia capire se si va in campo o meno il 9 gennaio perché vedo che è un po' dappertutto la situazione, è un po' sui generis. Possiamo dirlo che Vincenzo Flesch è uno dei giocatori attenzionati dalla sua società? Ma sì sicuramente, come tutte le punte ce ne sono poche, brave non ce ne sono tantissime quindi quelle brave che ci sono e che in una prima parte di campionato non hanno trovato tanto spazio le stiamo monitorando, però ribadisco non abbiamo fretta perché il mercato è lungo. Vincenzo Flesch